Prezzi stabili e numero di compravendite in aumento. Risulta in fermento il mercato immobiliare nella nostra provincia. La fotografia riguarda il settore residenziale. Nel 2019 le vendite di case sono aumentate di oltre il 6%. Complessivamente si tratta di 6.000 transazioni. Nel 2018 l'aumento era stato del 16% col nostro territorio avanti di 5 punti rispetto alla media regionale. A influenzare positivamente l'andamento, oltre ai prezzi fermi del mattone, sono i costi dei mutui diventati più accessibili. I valori non sono in ripresa ma si sono stabilizzati. I tassi di interesse si sono ridotti sensibilmente e hanno dato uno spunto a chi poteva intraprendere un finanziamento col classico mutuo. La quotazione di un'abitazione, nuova o completamente ristrutturata, in centro a Reggio, oscilla tra i 2.000 e i 3.600 euro al metro quadro. Fuori dall'esagono i livelli di prezzo più alti si trovano nel villaggio Magenta e nella zona di Canali, verso Albinea. Comune quest'ultimo che registra assieme a Quattro Castella i valori più alti al di fuori del capoluogo. Numeri che per la prima volta sono stati raccolti in una pubblicazione a cura della FIAIP, la Federazione Italiana di Agenti Immobiliari, che nella nostra provincia conta oltre 100 agenzie aderenti. Il report evidenzia anche un aumento dei contratti d'affitto. Chi sia l'alloggio piccolo, l'alloggio medio, diciamo che c'è la richiesta superiore all'offerta. Difficili da collocare, sia attraverso locazioni che vendite, sono gli uffici ma soprattutto gli spazi commerciali. Lì il mercato invece è in continuo ribasso, abbiamo visto che sono molti negozi che si sono chiusi. È un settore che si dovrà pensare come farlo riprendere e come farlo diventare più attrattivo.